Cercate un deck economico nel TCG di One Piece che possa anche dire la sua in un torneo locale? Quale leader potrà rispondere a tale chiamata e le sue dinamiche saranno semplici da comprendere? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nel video di domenica scorsa, dove abbiamo compreso assieme la strategia per fare acquisti nel gioco di carte targato Bandai, ho anticipato chi sarebbe stato il protagonista di questa profile. Infatti, il leader di oggi è, a mio parere, colui che potrà dare il benvenuto ad ogni nuovo aspirante re dei pirati, richiedendo in termini economici uno sforzo davvero minimo, si parla di una cinquantina di euro circa per riuscire ad avere il mazzo pronto all'uso e utilizzando una strategia di gioco che, dire aggressiva, sarebbe un eufemismo. Sanji è stato ed è tuttora, o almeno per l'arco di OP02, una vera rivelazione per i giocatori e, devo ammetterlo, all'inizio l'ho snobbato anche io, credendo che, in un meta dominato da colossi come Zoro, Barba, Smoker, Ivan e altro, il povero biondino avrebbe avuto vita breve, soprattutto se portato in un local. E invece, sono stato testimone di un vero e proprio evento stupefacente, dato che in un torneo organizzato dai signori di Loop Games, link in descrizione, Alessio, un pirata della zona, che saluto, si è piazzato secondo con un parziale di 4-1, mostrando a tutti i presenti che, in realtà, il cuoco non è solo bravo a cucinare, ma quando c'è da menare le mani, o per meglio dire nel suo caso, i piedi, di certo non è tipo che si tira indietro. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo, crescendo, si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Sanji, blu verde. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come di consueto dal leader, che una volta per turno, quando andrete a giocare character senza effetto, se ne controllerete tre o meno in campo, vi permetterà di settare due don in stato di attivo. Il calciatore sarà una carta bicromatica, e quindi ciò comporterà la presenza di quattro vite a supporto dei soliti 5.000 punti di potenza. Da come avete potuto intuire, dallo stesso effetto di Sanji, questo mazzo baserà la sua forza sul giocare un gran numero di personaggi senza abilità. Ed infatti ne saranno davvero molti, 29 per la precisione. E a differenza di altre liste, dove abbiamo preso singolarmente tutti i vari elementi presenti nel mazzo, analizzandoli uno ad uno, qui vedremo una carrellata veloce di tutto il compartimento senza effetti. La triplice coppia di Wire aprirà le danze. Character senza abilità, possiederà unicamente i suoi 4.000 punti di forza a costo 2. Medesimi valori per Bellamy, che in quartetto sarà un'ottima apertura nelle fasi iniziali di un match. Come lo sarà anche Jimbe, che con le sue altrettante quattro copie, concluderà questo sottoreparto 4.000 di forza a costo 2. Ancora quattro presenze per Usopp a costo 3, che, a supporto, avrà la bellezza di 5.000 punti potenza. Duetto per Krieg, che con i suoi 6.000 punti di forza a costo 4, di certo non lascerà tranquille le difese avversarie. Ennesime quattro copie per Zoro, versione film, che possiederà le stesse identiche statistiche di Krieg, sia in termini di forza che di costo. E la stessa cosa varrà per Moria, che, assieme allo spadaccino e all'armigero, formerà un trist d'attacco davvero temibile. Ultimo del reparto senza effetti sarà Mioka, costo 6, presente in quattro copie, che con i suoi 8.000 punti di potenza, rappresenterà uno dei due character più forti presenti all'interno di questa lista. Infatti, dopo aver visionato velocemente quasi tutto il reparto personaggi, che vedremo tra poco come si incastrerà al meglio con l'effetto del leader, simulando un paio di turni giocati, toccherà a due elementi, presenti rispettivamente in tre e due copie, far la loro comparsa sul campo di battaglia. Partiamo quindi, come sempre, col visionare il piccolissimo reparto blocker presente in questo deck. I tre elementi di Kid, a costo 7, apriranno e chiuderanno questo reparto blocker. Con la bellezza di 7.000 punti potenza, a corredare la sua abilità principale, ci sarà anche la possibilità di assegnargli un don per ripristinarlo in stato di attivo durante la fine del vostro turno. Uno dei blocker più forti del gioco, a mio parere, è dato che potrà svolgere una duplice funzione, in attacco minacciando il leader avversario con ben 8.000 punti di forza ed altrettanto bene in difesa, innescando il suo effetto per essere pronto in seguito a sventare un'offensiva nemica. E oltre questo Kid sarà presente nel deck anche l'altro, colui che in tutto P-01 ha rappresentato una vera e propria spina nel fianco per tutti gli aspiranti re dei pirati che hanno incontrato, lungo il loro cammino, mazzi dalla tonalità verde. La duplice copia di Kid, questa volta a costo 8, chiuderà il reparto character. Con a supporto la bellezza di 8.000 punti, la controparte del blocker potrà attivare la sua duplice abilità che vedrà, per la seconda, settarlo in stato di esaurito permettendovi in seguito di giocare un character con costo pari a 3 o inferiore dalla mano durante la vostra fase principale ed una sola volta per turno e per la prima assegnargli un singolo don per rendere tutti i personaggi presenti sul vostro terreno con nome Eusta, Skepte e Kid l'unico obiettivo valido da poter attaccare per chi vi giocherà contro se questo character sarà in stato di esaurito. La supernova sarà perfetta se integrata all'interno di questo deck, dato che se possiederete 3 personaggi o meno sotto il vostro controllo facendo scendere in campo un character senza effetti con costo pari a 3 o inferiore attraverso l'abilità del leader potrete settare due don in stato di attivo da utilizzare, come meglio crederete, anche e soprattutto in fase di counter. E a proposito di counter, questo deck ne conterà un numero davvero incredibile 16! E tutti serviranno o per dare manforte a chi sarà già stato impiegato in gioco o per velocizzare al meglio la strategia offensiva dell'intero mazzo. Le 4 copie di Pan Gibson apriranno questo reparto event A costo 2, in fase di counter, questa carta vi permetterà di aumentare di ben 4000 punti il valore di forza di un character o leader sotto il vostro controllo settando di seguito in stato di pronto un personaggio con costo pari a 4 o inferiore alleato In più la presenza di un trigger vi consentirà di esaurire un personaggio rivale Una carta davvero ottima, soprattutto perché a seconda della situazione potrà avere una duplice funzione o salvaguardare la salute di un vostro personaggio o rallentare le manovre offensive di chi vi giocherà contro Duplice copia per Overheat che a costo 2, anche qui, andrà ad aumentare di ben 4000 punti il valore di forza di un character o leader che possiederete facendo di seguito tornare un personaggio rivale con costo pari a 3 o inferiore in mano all'avversario A supportare il tutto sarà presente un'abilità trigger che riproporrà la seconda parte dell'effetto della carta bersagliando questa volta character con costo pari a 4 o inferiore Perfetta se vorrete sia dare un supporto difensivo ai vostri alleati che andare a togliere di mezzo risorse utili per le difese rivali come blocker fastidiosi che potranno frapporsi fra voi e le vite avversarie Doppia copia per Repel che con soli due Don consentirà ancora una volta di aumentare di ben 4000 punti la forza di un character o leader sotto il vostro controllo permettendovi di seguito di ripristinare un singolo Don esaurito in campo Davvero forte dato che attraverso il suo effetto secondario se avrete un Don attivo vi ritroverete a possederne due pronti all'uso che di sicuro vi torneranno utili per impiegare dalla mano ingenti risorse difensive Triplice copia per Love Love Beam che avendo lo stesso costo degli eventi visti fino ad ora andrà anche in questo caso ad aumentare di ben 4000 punti la forza di un character o leader sotto il vostro controllo permettendovi inoltre di pescare una carta se ne possiederete tre o meno in vostro possesso Ho giocato Love nel mio mazzo di Crocodile Blue Viola e devo ammettere che se ne innescherete appieno l'effetto apporterà un valore incredibile sia allo sviluppo della strategia di gioco del mazzo che alla velocità di esecuzione della stessa uno degli event a mio parere più forti del gioco lato blu 4 copie per Tree's War Style Onigiri che in questo caso andrà ad aumentare di ben 6000 punti il valore di forza di un vostro character o leader durante l'arco di una singola battaglia consentendovi in seguito di impiegare un personaggio con costo pari a 3 o inferiore dalla mano che non abbia un effetto in più la sua abilità trigger andrà ad esaurire un character rivale con costo pari a 5 o inferiore o direttamente il leader avversario il tutto a costo 3 impiegare personaggi anche nel turno di chi vi giocherà contro potrà rappresentare per lui un vero problema dato che quello stesso elemento giocato sarà come se possiederà l'abilità Rush pronto ad attaccare una volta che la mano passerà a voi in più essendo senza effetto si sposerà alla perfezione con l'abilità di Sanji la singola copia di Deathwing chiuderà questa decklist con costo pari a 3 durante la fase di counter potrete aumentare di ben 6000 punti la forza di un character o leader alleato andando di seguito a pescare una carta dal deck se ne possiederete due o meno in vostro possesso anche qui la presenza di un trigger vi consentirà di far tornare un personaggio con costo pari a 7 o inferiore dal gioco alla mano del proprietario pertanto se vi ritroverete in debito di risorse potrete sfruttare la duplice abilità di questa singola carta per attingere forze nuove pronte per essere impiegate al meglio rafforzando allo stesso momento il fattore difensivo atto a salvaguardare i vostri personaggi o il leader presenti in campo quindi dopo aver visto l'intera lista passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo ponendoci come sempre la solita prima domanda come funziona questo deck? una sola parola aggressività un esempio per aprire al meglio un match potrà essere turno 2 giocate un Jimbe ripristinate con l'effetto di Sanji due donne appena utilizzati per poi giocare un Bellamy infine passate la mano turno 4 giocate un Usop ripristinate per effetto del leader due donne assegnate tre donne rispettivamente uno a Sanji uno a Jimbe e l'ultimo a Bellamy attaccando di seguito l'avversario minacciandolo con due attacchi da 5.000 ed uno da 6.000 questo sarà il classico turno di apertura del deck che metterà già da subito pressione alle difese rivali e se ci avete fatto caso nell'esempio appena menzionato ho iniziato a mostrarvi le dinamiche dal secondo turno infatti Sanji almeno per quel che ho visto performerà al meglio partendo per secondo avendo già nel proprio primo turno tutto ciò di cui avrà bisogno per spingere immediatamente sull'acceleratore parlando di fase offensiva quindi possiederete letteralmente tutto o quasi il reparto character a supporto calcolando che anche chi da costo 7 potrà fornire il suo contributo attivo alla manovra d'attacco per quanto riguarda la difensiva avrete unicamente il chi da costo 7 supportato da Event che vedremo fra poco e numerosi più mille ma oltre a questo non avrete altro a disposizione quindi calibrate bene ogni giocata soprattutto nelle fasi intermedie di un incontro trattando invece l'argomento mano iniziale le carte must have da avere saranno di certo tutti i character a costo 2 con qualche Event a supporto qualunque esso sia se avrete in vostro possesso anche uno dei due kid di certo non farà male tutto qui se sarà così potrete procedere tranquilli in caso contrario mulligan ed incrociate le dita parlando di matchup invece beh qui non si tratterà di certo di un mazzo tier 0 ma ho assistito a tornei dove anche contro un barba un Magellan un Doffi o addirittura uno Zoro questo deck ha detto la sua portandosi persino a casa la vittoria diciamo che non vi pentirete della scelta fatta se gli darete una possibilità per mazzi come Kinemon o Smoker invece andateci più cauti per tutti gli altri ve la giocherete avendo discrete possibilità di vittoria per la win condition la più comune sarà quella che chiamo shield and build ovvero erigere dei muri mentre si costruisce dietro le linee difensive la fase di attacco in questo caso nello specifico io personalmente ho utilizzato i due kid a difesa mentre con gli altri character picchiavo sodo gli event vedranno 16 carte tutte atte a rafforzare il leader o i personaggi presenti sul terreno consiglio di focalizzare l'attenzione sui pezzi grossi a vostra disposizione vedasi già menzionati i kid i quali necessiteranno di un supporto davvero impegnativo per non far cadere le difese ricordate avrete solamente quattro vite a vostra disposizione quindi fatene tesoro per le info generali calcolate che il potere del leader se rispettato entro i limiti vi permetterà di scontare di ben due don il costo di personaggi che in rapporto costo potenza risulteranno davvero incredibili come mihawk a costo 6 che scenderà in campo a 4 minacciando il leader avversario con ben 8000 punti più tutti gli altri a seguire infine per la fase counter non ci saranno più 2000 presenti ma una raffica di 1000 più che potrete utilizzare all'occorrenza se non possiederete in mano degli event pronti all'impiego nel mazzo saranno presenti tre blocker rappresentati dai kid a costo 7 due kid a costo 8 che fungeranno da scudo ausiliario nessun personaggio con counter più 2000 ma quanti ne vorrete con più 1000 degli event che vi supporteranno in fase difensiva per renderla il più resistente possibile un settore offensivo rappresentato dalla quasi totalità del reparto character che più aggressiva non si potrà e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti prima di concludere volevo lasciarvi questa informazione che sono sicuro interesserà a molti questo deck sarà il più economico sul mercato le uniche carte che varranno qualcosa saranno i kid blocker 4 euro l'uno circa e i costo 8 attorno ai 5 euro sempre per carta il resto non sarà eccessivamente esoso e potrete reperire il tutto in modo semplice ed agevole dato che come già detto in uno scorso video il 90% del deck sarà formato da semplici comuni divertente e minaccioso al punto giusto questo leader rappresenterà a mio parere lo ripeto il punto di partenza per tutti coloro che vorranno navigare nei mari della competizione iniziando così a scrivere le prime pagine della propria ascesa come nuovi re dei pirati e voi proverete a sferrare calci sempre più potenti e bollenti ai danni di chi vi giocherà contro come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti